La quarta edizione della festa dei padrini per raggruppare tutte quelle persone che hanno un bambino adottato a distanza. Attualmente abbiamo 350 bambini adottati a distanza in Sri Lanka e dall'anno scorso abbiamo iniziato anche ad adottare i bambini del Congo, della capitale Kinshasa. La nostra associazione è nata nel 2001 e già dal 2001 è partita con 35 adozioni a distanza. A questi bambini riusciamo a dare un contributo che permette loro le prime necessità di vita di famiglia, quindi logicamente per avere una vita dignitosa in famiglia e per andare o all'asilo o per quelli che già hanno finito l'asilo per continuare le scuole successive. Questa edizione della festa dei padrini in particolare prevede la presentazione di un calendario solidale che noi abbiamo realizzato con quattro scuole di San Salvo e di Vasto. Sono una scuola di San Salvo e tre scuole di cui due elementari è la scuola media di Vasto, la Paolucci. I bambini con una fiaba dello Sri Lanka tipica che ha come titolo il leone e la lepre hanno illustrato le fasi di tutta la fiaba. Abbiamo scelto 12 sequenze, con queste sequenze abbiamo creato i 12 mesi dell'anno. I bambini e le insegnanti hanno sentito molto questo progetto e si sono veramente impegnati. Grazie a tutti.